Lezione come potete intuire già dal titolo del video Ho cercato già di farvi capire un po' di cosa si tratta e ho fatto un bel po' di spesa Ste carte come cazzo sono state messe, vabbè comunque vediamo un po' ragazzi Ora li tiro tutte fuori e vediamo di cosa si tratta Partiamo con questo primo mazzetto Allora partiamo da piano oscuro Non conosco questa carta, è tu avversario o scartare una carta per non dare l'effetto di questa carta Ma in entrambi i giocatori scartano due carte, poi pescano due carte, che figo Tartaruga UFO, bella Allora vediamo un po', vediamo un po' cosa ci riserva questa collection Scimitarra Neo Flammel, Contraattacco Vulcane, Guardia e Regata e Lampesta di Fuoco Mantigola dell'Oscurità Spettro Principe, questa è bella ragazzi, questa è bellissima Se questa carta è mandata al scimitarra puoi mandare un servitore del teschio Proprio per archetipo zombie La signora spettrata dalla tua mano deck al cimitero puoi mandare due servitori del teschio a questa carta Evo specialmente un re dei servitori del teschio dal tuo deck Ah il signore dei servitori del teschio Dal tuo deck in nome di questa carta di mandare servitori del teschio e mandare nel cimitero Ok ragazzi, pezzatore oscuro, molte carte che non possedevo Re dei Goblin, cannone ingranaggio antico Questa è una carta un po' pezzotta, un po' falsa secondo me Questa è una bella carta falsa, poi faremo un video apposito dove spiego come si riconoscono Bestia Radical, Berconway, bello Psi struttura e psiloma, questo è un bel tuner ragazzi Vediamo un po', voglio leggervi l'effetto perché questo è molto interessante Psico tuner effetto Non può essere evocato normalmente posizionale, deve essere evocato specialmente dall'effetto di una carta E non può essere evocato specialmente in altri modi Durante il turno di qualsiasi oggetto, quando tu devi strutturare una carta trappola Mentre tu non controi nessun mosto, puoi evocare specialmente sia questa carta Alla tua mano, che un psi struttura pilota alla tua mano Deck o cimitero E se lo fai, non ha l'attivazione E se lo fai, distruggi quella carta trappola Durante la end phase, bandisci i modi scoperti evocati specialmente da questo effetto Bellissima questa, andiamo avanti Attaccati, sirene di abimesmater, esplosivo Vabbè, c'è l'eroido oscuro, qui sembra, andiamo un po' avanti Sirene di abis, verga del muo, che figo La prima foil, una super rara abbiamo, verga del mago, raga Battaglia s-rock, questa è bella carta, questa è molto bella È tenuta bene, finalmente, è una carta tenuta bene Dove tu abbai, recupero veloce, è bella Vuoto della vanità, questa pure interessante Però questa qua è banditissima, sta carta Vuoto della vanità Bella carta, ma inutile Ok, andiamo un po', vediamo un po' il resto di questa collezione Se ci riserva qualcosa Sguerriro da battaglia, wow, roba di gioi Vediamo un po' il resto, se c'è qualcosa Discepolo, ah, finalmente pure questa bella che mi mancava Discepolo dirà Questa sì che è bella Ok ragazzi, vediamo qualcosa, ora andiamo un po' sul pesante Scontro Gozen Ho un giocatore, può contare solo il tributo di mosti Ma tutti gli altri mosti scoperti, può contare la cimile Salamagna-Lincepira, raga, ve l'ho detto che arrivavano anche i Salamagna Salamagna-Lincepira, molto molto interessante Crabbons, Gabbia Rituale, Fusione La, Salamagna-Lupio Ho comprato proprio perché aveva molte Salamagna-Jack Jaguaro, molte molte carte Salamagna Salamagna-Suri, ok, Salamagna-Gazzella Rabbia-Salamagna, Ruggito-Salamagna Cerchio del rete fuoco Bucotrappolo, ok, vediamo un po' Leggenda del cuore Drago-Biamman-Esposiva Eccolo i, raga Mi avevo proprio bisogno di carte Link Amministratore di fiamma Salamagna-Leocaldo E uno, raga, guardate qua Numero 506, Mano Gigante-Rossa Ah, ora cominciamo a ragionare Numero 506, Paladino del Drago Nero Salamagna-Salstallon-Miraggio Questa, vabbè, bella Salamagna-Leocaldo E siamo a due, eccoli qua Raga, quelli che mi interessavano da questa collection Guardate qua, bellissimi, eh I due Salamagna-Hit Soul Con tutte e due gli artwork Bella, vabbè Salamagna-Un bellissimo archetico Che mi serviva Salamagna-Salon-Miraggio Di Abason-Rustica Salamagna-Falco Microspia Ok, beh E' una magica Salamagna-Cristato Molte carte molto interessate Salamagna-Procione Dono-Salamagna Vediamo un po' Salamagna-Volpina Mi serviva proprio Salamangreat Vero Reanimazur Di Valorizzatore Questa pure fa Circolo-Salamagna Magna-Volpina Un guadalink Bella E abbiamo anche Salamagna-Rotante Quelle che mi interessavano Sono proprio queste Guardate qua Belle, belle, belle Queste qua Sono quelle che valentino Vediamo un po' il resto Ma qua è tutta palta Ragazzi, secondo me Il resto qua Vedo tutta palta Come vediamo un po' E questa è proprio palta Generale Sabati E là beh Payang-Zi Chierico Contro-Metalfosi Diciamo Battata-Dadi A boh Guardi qua è palta Proprio Di livelli Astronomici Fuoco sempre Fuoco sempre Terra nera Cucciocchi rossi E boh Mamma mia Qua è merda Proprio Qua abbiamo proprio La merda Più totale Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Se esce qualcosa Proprio su un'altra Psi struttura Un po' Una con di scumo Toko Porcospino Minar Che sarà un'altra Pezzotta Un'altra carta falsa Kiko Che fa sempre bene Crebo Se è indetta La nera Ok Muro di disturbo Che è sempre interessante Piano di scien Andiamo un po' Avanti Santuario Salamagna Eccole ragazzi Ecco qua Se evochi link Un mostro link Salamagna Puoi utilizzare Un mostro In salamagna E controlli Con il suo stesso nome Come un intero materiale Durante il calcolo Di danni Se un tuo mostro Combatti Puoi giocare 1000 life points Puoi scegli come Bessare un mostro Link E controlli Fai diventare Zero il suo attacco E se lo fai Guadagni Life points Pare al suo attacco Regino Puoi utilizzare In effetti Santuario Salamagna Solo 8 per turno Bella Questa mi interessa Moltissimo ragazzi Nella torre neofame Nella nera Ok Gru Curivolt Risucchiabilità Bello Skill drain Mamma mia Però Proprio distrutto Andate qua Condizione di merda Che cazzo Attiva pagando 1000 life points E effetti Tutti i mostro Scoperti sul terreno Sono annullati Mentre quei mostro Sono scoperti sul terreno Ma i loro effetti Possono comunque Estra attivati Che peccato E' un espresso Trolli Olli Secret Bella questa Per il deck Trenini I trenini Cesto finale Gin Quest'altra schifezza Cà Abbiamo proprio schifezza Affari del mondo Summato Questa è bella Sta carta Oggi Il giocatore pesca una carta Poi un giocatore Scarto una carta Guardate qua Proprio condizioni pietose Ritorno forzato Stoico Ok Uomo branchia spinato Bagliore futuro Mamma mia Ma chi sta che è Lo Flaff Mamma mia Questi stanno Proprio disintegrati Ricchiere atlantico Recupero Ok Benissimo Guardate qua Questi erano Quella che mi interessavano A me Ho rimpinguato Un po' La collezione Salamagna Guardate qua Questi sono Proprio 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 Interessanti Alla fine Dei conti Questi erano Quella che mi interessavano A me Lasciate like Ditemi cosa ne pensate Se il video vi è piaciuto Vi ha fatto care Commentate Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo al prossimo video Un saluto dai salamani